Uno degli elementi costitutivi dell'esperienza di Padoval Coglie è la casa dei diritti di Don Gallo, cioè è una storia che viene da abbastanza lontano attorno all'esperienza di Razzismo Stop, ma per assurdo è il presente e ancora per più assurdo è il futuro dell'abbandono in cui queste persone saranno messe. La struttura è totalmente autogestita e non ha nessun tipo di solfezione, è interamente laica, perché l'altro aspetto da notare è che certamente alcuni aspetti chiesastici funzionano, ma esiste anche una capacità della città aperta e accogliente di costruire sulle proprie gambe, sulla propria solidarietà, esperienze significative. Perché significativa l'esperienza di casa Don Gallo? Perché accoglie 80 a rotazione cittadini del mondo che sono diventati, un po' per necessità e un po' per loro scelta, cittadini padovani. Il discorso che prima veniva fatto sulla impossibilità e io aggiungo sulla pericolosità di produrre un ragionamento di interesse comune se si respinge l'accoglienza è evidenziato dalla casa Don Gallo, nel senso che lì non possiamo, se io, istituzione, non possiamo